Non sapevo se iniziare la trasmissione con siamo rimasti in tre o pochi ma buoni. Siamo allo Sherwood, bentornati Marcella e bentornati a tutti voi. Bentornati tutti allo Sherwood, abbiamo un po' di novità, anzitutto siamo felicissimi. Abbiamo una copertina strepitosa, l'hanno chiamata Limona e io la chiamerei Bella, una fantastica corsa che ha fatto dei grandi passi, passi da gigante, dalla catena al canile. E' bene no? E' bene, molto bene. Limona è giovanissima perché ha appena compiuto un anno e quindi questo naturalmente giustifica la sua esuberanza. Non ho ancora frequentato le elementari, ancora faremo all'asilo, mancano ancora un sacco di istruzioni però c'è spazio, assolutamente c'è spazio. È una meravigliosa cagnona corsa di 40 chili, quindi va bene per tutti ma per gli amanti delle taglie grosse e importanti. Lei è arrivata con questo nome in realtà e poi abbiamo capito il motivo, si chiama Limona e ci bacia tutto il giorno. Quindi è buona come il pane, naturalmente è un cane non per tutti ma è qui, è qui, vi aspetta. Se qualcuno ama questa razza ed è in grado di gestire cani di una certa importanza saremo felici di presentarvela. Io me ne immagino la catena, il destino previsto per questo cane e ringraziamo Marcella e tutti i suoi collaboratori perché lei è libera, anche se non canile, ma è molto libera per riuscire tra l'altro degli spazi strepitosi per gli sgambi e tutto. È vero, è vero, adesso qui lei dà una vita a catena, anche se non è stata maltrattata perché vediamo che non ha nessuna paura dell'uomo né della donna, però faceva una vita infelice, disagiata diciamo e quindi adesso si sta scatenando, ha trovato lo spazio, ha trovato ciotoloni di pappa e ha trovato tanta gente da baciare, finalmente riesce a raggiungere le persone, il contatto è quello che cerca. Bene, ora una veloce post-adozione perché la squadra ti dà soddisfazioni. La squadra sta lavorando in modo importante e noi abbiamo aperto il 2019 con delle adozioni veramente importanti. Vi ricorderete sicuramente del nostro Sirio, da tanti anni qui, più di quattro anni, un canietto di ben 12 anni. E quindi finalmente ha trovato una famiglia amorevolissima che lo ha portato a casa e lo ha adottato. E noi siamo veramente contenti perché quando un cane di 12 anni, dopo tanti anni di canile, viene adottato è una conquista. Se non corri non avremo spazio per i cani in trasmissione, veloce. Allora, mi metto a correre e l'altra bomba che vogliamo lanciarvi è l'adozione di Demetra. Anche lei qui da tanti anni, la cagnolina che avevamo operato al cuore e anche lei ha trovato una famiglia meravigliosa. Quindi siamo contentissimi. Seguono altre adozioni, Tigrotta, Polet e a breve avremo George. Loro sono più new entry, siamo emozionati, ma insomma è giusto che i cani vadano presto in adozione, soprattutto i cuccioloni. Vi aspettiamo per l'imodo. Bene, è assolutamente nato un amore e spazio però ai protagonisti della trasmissione, ok? Ok. Bene, il Festival della Bontà inizia, continua, non con Simona, che salutiamo, una delle colonne, ma con Mila. È vero. Simona non è bravissima. No, Simona è bravissima, poi ha i suoi lati nascosti che prima o poi tirerà fuori verso di te. Comunque Mila è molto buona anche se è una cagnolina che si sa far rispettare. È giovane anche lei, ha un anno, è un'altra taglia rispetto a Limona, è un'altra gestione quindi. È una cagnolina che è arrivata dal sud e purtroppo ha fatto un viaggio in aereo, quindi quando è arrivata era un po' intimorita dalle macchine, probabilmente l'autoveicolo, comunque il veicolo chiuso. Ci abbiamo lavorato, ci stiamo lavorando tuttora ed è molto migliorata. Delle persone non è spaventata, con i cani relaziona, socializza, gioca. È una cagnolina che potrà tranquillamente vivere anche in città. Quindi vi aspettiamo, è giovane, sterilizzata, buona, taglia veramente contenuta. Ecco, noi la intendiamo come una medio piccola. Con baci. Con baci. Vi presentiamo Malik, trascurato perché? No, trascurato assolutamente no, in che senso? Malik è ancora qua. È un nostro cucciolone, diciamo così, perché rasenta l'anno e mezzo, mare manino, ma semplicemente è un cane appena timido quando vede i primi tre minuti, diciamo forse neanche. Quindi se intendi questo, trascurato perché magari ha bisogno di trovare persone che abbiano un po' di pazienza, un po' di calma per farsi conoscere. È dolcissimo perché anche con noi volontari che ci conosce è un cane meraviglioso. Sicuramente non è un cane da centro città, quindi anche lì stiamo cercando un'adozione. Magari con una cagnolina già in famiglia. Lui è molto socievole con i cani, esce con i maschi, esce con le femmine. Ha sicuramente dentro il mare manino, quindi va tenuto conto dei suoi geni. E quindi persone adeguate, che conoscano anche la razza, che sappiano che non deve diventare un cane da giardino, un cane guardiano, ma un cane di casa, tenendolo con le giuste accortezze. Il mondo di Argo e Buio sono carezze? Il mondo di Argo e Buio. E sì, è vero. Argo ha circa 6-7 anni e anche lui viene dal sud perché probabilmente un tempo andava a caccia e poi i suoi occhi si sono chiusi, diciamo così. Non sappiamo neanche il motivo perché quando è arrivato da noi è arrivato già così e quindi hanno pensato bene di abbandonarlo. Una volontaria vedendolo vagare per le strade di Salerno ha creduto bene che non fosse il caso. che potesse fare il cane randaggio e quindi attraverso una serie di contatti Argo è qui. Argo è molto dolce, ha bisogno di carezze, di contatto e quindi non so cosa aspettate a venirlo adottare perché anche magari delle persone un po' di età o persone pensionate, lui è dolcissimo, ha solo bisogno di avere una casa e non si trova benissimo diciamo in canile perché vorrebbe veramente contatto in continuazione. I suoi occhi sono diventati i nostri. Se non avete un gatto e avete un piccolo giardinetto dove c'è un angolo di sole venite a conoscere Argo perché lui adora ciambellarsi al sole e stare lì ore e ore tranquilli. Però non gli piacciono i gatti. Tra il cacciatore e il canile per fortuna Claude è in canile. Claude è un altro seguggetto che non andava bene per la caccia qui ne stiamo facendo la collezione. Lui è toscano, della Maremma, quindi è tigrato, è il classico seguggetto maremmano. Ha circa sei anni, è una taglia proprio piccola. Tra il cacciatore e Sherwood ha soggiornato in diversi canili dove insomma è uscito poco, quindi adesso è felicissimo di vedere persone, cani, va d'accordo con tutti, è sterilizzato e esprime questa sua gioia saltellando e abbaiando. Ramon e Simona sono corvini. Corvini vanno in coppia. L'importanza di essere un piccoletto. Ramon ha quattro mesi, è una taglia sicuramente contenuta, è arrivato da poco, è molto molto buono. Dobbiamo dire che davvero sta parecchio buono nel suo box, usa tanto i giochini, gli piace anche socializzare con gli altri cani. È buono con tutti, ecco, naturalmente è effervescente, ma giustamente un cane a quattro mesi deve esserlo. Abbiamo già ricevuto un po' di richieste e comunque ve lo mostriamo, chissà mai. Bello ma timido, Dimitri, la new entry dello Sherwood, ci lavorerete? Per forza, Dimitri è proprio la new new entry, è qui da pochissimo, proprio da un paio di giorni. Insomma, come vedete è un segugio meraviglioso, a pella duro. Chi lo aveva non lo voleva più e quindi lui è qua innanzitutto in cerca di contatti. Deve conoscere un po' le persone, per ora si pone molto bene con i cani, dovrà imparare il guinzaglio, dovrà imparare un pochettino a socializzare. Però i nostri volontari educatori cinofili hanno già iniziato il loro lavoro, quindi speriamo di presentarvelo presto, molto più sciolto. Oggi abbiamo lavorato con degli spettatori che verranno poi ripresi nella prossima puntata, giusto? Sicuramente, non vediamo l'ora di far riprendere anche loro, che nel frattempo girano un po' per il bosco di Sherwood. E concludiamo con Dodo, l'elogio del cano anziano, vai. Dai, visto che il 2019 è iniziato con le adozioni importanti, anche di cani di età, diamo una speranza anche a Dodo. Perché se la merita? Se la merita perché ha dieci anni, tutti passati in canile, non per colpa sua assolutamente, ma perché ha girato tantissimi canili del Lazio. Poi è arrivato qui, già con un po' di annetti sulle spalle e quindi è stato un po' trascurato dai visitatori. Ma Dodo è talmente bravo, è talmente un cane che non dà nessun tipo di problemi. È appena appena timido, ma è davvero buono. Se volete un cane che è tranquillo, è buono e non dà mai da fare, è Dodo. Quindi vi aspettiamo. Bene, Simona, grazie perché le colonne sono fondamentali. Alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. La tua squadra funziona e ci auguriamo che la prossima puntata avremo un sacco di adozioni. Grazie anche a te. Vi aspettiamo, grazie a voi. E a voi, grazie per l'attenzione, non trascurate Dodo e tutti i suoi amici. Buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici in un attimo. Grazie a tutti i nostri amici in un attimo. Grazie a tutti i nostri amici in un attimo. Grazie a tutti i nostri amici in un attimo. Grazie a tutti i nostri amici in un attimo.